Sono 64 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Questi nuovi dati emersi dall'analisi di 5211 tamponi molecolari, dove il risultato positivo è l'1,3% dei campioni analizzati. Continuano a scendere i ricoveri, che passano da 187 di ieri ai 178 di oggi. Si registrano due nuovi decessi, con il bilancio delle vittime che sale a 2475. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 91 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 17, di cui 12 residenti in provincia dell'Aquila, due in provincia di Pescara, due in provincia di Chieti e una in quella di Teramo. Le due vittime sono un'ottantotenne della provincia di Pescara e una cinquantasettenne della provincia di Chieti. Gli attualmente positivi sono 5.619, meno 66 rispetto a ieri. 161 pazienti con un calo di 10 unità sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 17 con un nuovo ingresso rispetto a ieri sono in terapia intensiva, mentre gli altri 5.441, meno 57 rispetto al bollettino di ieri, sono in isolamento domiciliare e con sorveglianza attiva da parte delle Asle. I nuovi guariti sono 128, per un totale di 65.780 dall'inizio dell'emergenza. Del totale dei casi positivi, 18.626 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, dove si registra l'incremento maggiore, più 34, seguita da quella di Teramo, più 15 rispetto a ieri, per un totale di 17.227. In provincia di Chieti, più 9 casi oggi, per un totale di 19.209, mentre in quella di Pescara solo 6 nuovi casi, per un totale di 18.056. Inoltre 578 sono fuori regione, mentre per 178 sono in corso, verifiche sulla provenienza.